Sappiamo da tanto tempo che l'edilizia è un settore trainante l'economia del nostro paese, l'abbiamo trasformato in un settore green, sostenibile e sta appunto diventando la locomotiva della crescita economica del nostro paese. Siamo contenti di confrontarci con gli operatori, con i cittadini, con coloro che materialmente poi devono applicarlo giorno dopo giorno e racconteremo loro anche la battaglia che ci apprestiamo a portare avanti al Senato per togliere qui i limiti che il governo hanno introdotto come l'Egea 25 mila euro che sarebbero un blocco non solo al lavoro dei nostri imprenditori ma anche all'economia e in questo momento non ce lo possiamo permettere. Noi vogliamo un super bonus che sia strutturale, che vada più in là nel tempo possibile anche perché non solo per l'economia anche per l'ambiente. Abbiamo nei confronti delle nuove generazioni degli obblighi, col super bonus stiamo riqualificando le case degli italiani rendendole più sostenibili, meno inquinanti e facciamo risparmiare i cittadini italiani che avranno più soldi a fine mese da spendere nell'economia reale. Questo è il nostro progetto per il futuro. Una riforma chiara, certa e soprattutto dai tempi determinati per il super bonus che rappresenta una svolta per l'Italia. Ci si aspetta un incremento del PIL del 15%. Cosa si auspica per il futuro? Dire che una riforma è chiara e certa è una parola molto molto grande. Sicuramente il 2023 è un contentino ma queste misure devono essere messe strutturali. Soltanto così possiamo creare quello sviluppo sano e concreto. In questo modo è come se mettessimo a fuoco soltanto paglia.